Ed eccoci alla sezione dell'approfondimento, un argomento assolutamente scottante in tema di grande sensibilità e rispetto, parliamo del cimitero di Trapani, come sapete è una situazione diciamo obiettivamente incresciosa, ci sono centinaia di salme, 170 circa, forse qualcuna in più nelle ultime ore è arrivata ad aggiungersi alle preesistenti, 170 salme in attesa di sepoltura, tra estumulazioni e tumulazioni, parliamo di salme che attendono davvero da mesi. Il problema è stato spiegato in qualche maniera, anche in maniera approfondita nelle settimane scorse, non c'era la ditta che si occupava di questi lavori, appunto è stato dato un appalto, le busse sono state aperte, la novità di oggi è che finalmente già da stamattina, alla media circa di 15 al giorno, queste salme, nel pieno rispetto, saranno degnate di attenzione. Ne parliamo in studio con l'assessore che si occupa anche della questione cimiteriale per i comuni di Trapani, il dottore Nini Romano. Buongiorno, grazie direttore, oggi abbiamo cominciato con la nuova ditta, ieri sono state aperte le buste e nel rispetto di quelle che sono le regole che distinguono sempre la legittimità del nostro operato, alla ditta sono state affidate appunto i lavori. Oggi stesse hanno cominciato e già sono state fatte le prime 5 stimolazioni straordinarie e da lunedì cominceranno quelle ordinarie, per cui si procederà con un ritmo di oltre 15 al giorno, in modo tale da cercare di eliminare purtroppo quello che tu hai detto che sono le giacenze delle bare all'interno del cimitero e della chiesa e dei locali dove sono state stazionate queste bare. Spieghiamolo, perché si è arrivati a questo e come si può risolvere, se possiamo risolverlo definitivamente? I motivi sono due, il primo e quello più pressante è quello che è la mancanza di locali. Non abbiamo disposizione purtroppo dei locali dove poter andare a mettere le nuove salme. Su questa cosa abbiamo lavorato e sono stati fatti delle determini in cui c'è un elenco di 100 stimolazioni straordinarie che dovranno essere fatte nei prossimi giorni e gli altri elenchi si stanno preparando, per cui cerchiamo di arrivare quantomeno a 400-500 loculi da mettere a disposizione, purtroppo, di quelle che sono le bare in giacenza e questa era la cosa fondamentale. Ma per fare questo si è dovuto fare un iter burocratico non indifferente e di conseguenza anche delle ordinanze da parte del Sindaco che ci permetterà appunto di estumulare quelle che sono delle tumulazioni del 1814. Praticamente sono delle tumulazioni che si devono fare su dei locali che praticamente non hanno più eredi, non ci sono più persone che curano questi locali, creando anche un problema gravissimo che è quello che sono il degrado di parte del cimitero, perché se un loculo non viene attenzionato con la posizione del materiale che si fa staccando, con la lapide che si è rotta e quant'altro è un degrado. Infatti al cimitero ci sono dei posti che sono veramente degradati. Ecco per cui questa amministrazione si è data una direttiva dicendo, bene, quelli che sono i locali che non vengono più attenzionati da parte di nessuno, purtroppo, saranno fatte le stumulazioni straordinarie, i resti saranno messi nelle cassette e portate nel rossario diciamo comunale, come normalmente accade. Ecco, da lì possiamo recuperare parecchio, parecchi posti e di conseguenza dare degna sepoltura anche a chi... Capisco, però per esempio nel caso dei loculi, ma ci sono intere pareti obiettivamente in stato di non buono, non bello da vedere, insomma di degrado, vengono prima sistemate queste pareti, questi loculi o intanto li mettiamo così e poi si procede a una messa in sicurezza? Ci sono addirittura interi padiglioni dove si vedono le travi? Su questo non ci sono dubbi, Vittorio. Allora, noi andiamo ad agire intanto per eliminare il problema di igienico sanitario gravissimo, che è lo stazionamento di queste pare, 170, hai detto tu bene, all'interno dei depositi. 170, un momento, purtroppo, una frase che si dice sempre al cemitero è che la morte non si ferma, purtroppo. Eh, lo so. Si possono fermare tutte le altre cose, ma questo purtroppo non si può fare, non ci sono ordinanze che tengono. Per cui intanto cerchiamo di eliminare questo tipo di situazione che si è venuta a creare, dopodiché andremo anche a fare la ristrutturazione di quelli che sono i loculi. Certo, nel momento in cui si fa la sepoltura e all'interno dei loculi che vengono liberati è normale che una traccia di riordino si deve dare obbligatoriamente. Ultima domanda e poi magari approfondiamo più in là con un'apposita trasmissione. Eh, aspettiamo tutti da tempo la costruzione di nuovi padiglioni. Sembrava cosa fatta negli anni passati, no? Abbiamo fatto pure una trasmissione dove era presente l'assessore Nini Romano. Perché ci siamo arenati? Beh, ci siamo arenati per un problema sempre di discorso, diciamo, economico. Stiamo cercando di trovare una soluzione, anzi, la soluzione si può trovare vendendo i loculi in vita e di conseguenza cercare di recuperare queste somme in modo tale da poter costruire il nuovo padiglione. Però, direttore, voglio dire questo. Da una prospettiva di quello che stiamo facendo con questi loculi che ormai sono, diciamo, scaduti, perché sono loculi anche scaduti, abbiamo una proiezione di oltre mille loculi da poter utilizzare. Mi dispiace dire questi termini, utilizzare, parliamo, insomma, delle situazioni, ma è questa di fatto per capire un po' tutti qual è la situazione. Mille loculi ci permettono di avere il tempo necessario per trovare anche le risorse finanziarie e poter anche fare quelli che sono i campi di inumazione nuovi, perché anche questo è un'altra cosa molto importante, e anche completare quelli che sono l'iter procedurale per la costruzione dei nuovi padiglioni. Assessore, grazie per queste informazioni, aspettiamo ulteriori svolti, soprattutto speriamo di non dover ritornare da qua a qualche mese sulla questione che era diventata veramente grave. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie a te per avermi dato la possibilità di dare informazioni ai cittadini. A voi per averci seguiti. Grazie a te per avermi dato il video.